Il secondo anello incomincia a riempirsi, il cross per Piritano, gol! Vatrella se ne va in velocità, serve Marcellino, preciso il tocco, Marcellino! Vista la pioggia ci verrebbe da dire successo bagnato, successo fortunato, però non è proprio tutta questa di fortuna, mister, perché avete costruito questa vittoria pezzo per pezzo, anche grazie al gol fatto subito da uno splendido tiro al volo di Piritano. Sì, sicuramente non erano le condizioni ideali per giocare a calcio oggi, visto le abbondanti piogge, quindi il campo molto pesante, però la squadra ha giocato bene, quindi sono contento. Sì, sicuramente ci ha aiutato a passare in vantaggio presto, perché comunque non è mai facile contro una squadra forte come il Taverna, partita con gli onori e i favori del pronostico, e quindi direi che mettendo la partita subito bene poi abbiamo trovato più facilità, anche se non è stata una partita semplice per niente, perché abbiamo avuto diverse difficoltà. E soprattutto Giglio ben ingabbiato, non forse da un unico giocatore, ma tutto un sistema di gioco. Sì, noi non marchiamo a uomo, quindi siamo stati bravi ad essere sempre corti, quindi anche con un attaccante forte come Giglio siamo riusciti ad essere sempre vicini, stretti, e quindi non abbiamo dato possibilità a lui di girarsi, e nello stesso tempo mi pare che abbia dialogato poco anche con i compagni, visto e considerato che eravamo sempre messi abbastanza bene. Anche su queste cose si può migliorare, perché è giusto che sia così. E allora cerchiamo di chiudere con lo scoop. Due gol subiti in dieci partite, come si fa a segnare al Montepaone? Ma guarda, noi siamo contentissimi di come sta andando la squadra in tutti i reparti. Come dicevo prima, non è soltanto la capacità della linea difensiva, che oltretutto è cambiata spesso, anche se non in tutti gli elementi, perché abbiamo avuto delle defezioni dell'ultimo momento anche oggi. Però noi non ne parliamo mai di queste cose perché chi entra gioca meglio di quelli che stanno fuori, quindi vedo che assolutamente non siamo uno staff, una società che parla mai dell'assenza. Infatti è come se non ne avessimo avute mai in tutto il campionato. Come si fa gol, se l'avessi saputo sicuramente non te lo direi, però non lo so neanche. Ed eccoci ora con mister Folino, al quale nonostante la sconfitta facciamo i complimenti per un ottimo taverna, soprattutto con Corea e Colosimo sugli esterni, avete contrastato la forza degli esterni del Montepaone. Una squadra che non sa pareggiare la vostra, o vincete o perdete. Sì, noi cerchiamo sempre di giocare a visapare, di giocarci la partita. Oggi abbiamo trovato una squadra che non è prima per casa, dobbiamo dirlo. È una squadra organizzata, corre tanto e in fiducia ci hanno messo in difficoltà, soprattutto perché noi anche venivamo da una trasferta di Casaboni in Coppa con la prima dell'altro girone, quindi siamo una rosa abbastanza ristretta, abbiamo parecchi infortuni, quindi oggi sapevo che verso la fine potevamo pagare. Poi l'espulsione di Nicoletti ci ha tagliato le gambe, perché sinceramente sull'1-0 per loro abbiamo avuto l'occasione di Giglio, che poteva fare 1-1 e poi hanno avuto l'occasione per chiudere, non l'hanno chiusa. Poi l'hanno chiusa successivamente, però devo dire una partita, secondo me è giocata bene anche da parte nostra, perché dobbiamo dire la forza del Montepaone, perché si è costruito una squadra davvero forte. E soprattutto, forse se il campo fosse stato asciutto, entrambe le squadre molto tecniche avrebbero dato ancora più spettacolo. Sì, secondo me il campo asciutto sia noi che loro avremmo trovato un miglioramento, perché sicuramente si è giocato un po' più sulla forza, ma è sulle seconde palle, infatti non è stata una partita con tanta occasione. Peccato noi i primi 6-7 minuti, abbiamo concesso un po' troppo di manovra, poi quando ci siamo messi bene la partita è stata equilibrata, però il calcio, l'episodio ti può fare differenza, noi abbiamo preso quel primo gol che secondo me potevamo essere un po' più attenti. Poi secondo me la partita è stata giocata bene da entrambe, poteva finire con qualsiasi risultato. Mi dispiace solo per l'arbitraggio, perché secondo me in queste categorie non riescono a gestire le partite. Mi sa che di questo c'è il vostro presidente che vuole fare una dichiarazione, quindi ora ne approfittiamo. No, ma io non sono polemico, secondo me non c'è buonsenso, né da una parte né dall'altra, né da parte di noi a detti lavori, come avete visto io sono stato zitto, non ho detto niente, né da parte loro, perché loro da un'ipotetica espulsione a loro siamo passati dopo 30 secondi all'espulsione nostra, quindi un po' di buonsenso, anche se ci potrà stare il fallo d'ammunizione, però il buonsenso secondo me nella vita ci vuole. E l'abbiamo detto anche in telecronica questo. Sì, vabbè, ma questo è palese, io purtroppo vorrei parlare della parita, però certe volte devo dirlo perché vanno aiutati, che sono ragazzi, però se non li aiutiamo, il buonsenso non ce l'hanno, secondo me, secondo me, l'avete detto pure voi, l'avete visto, non ha avuto quel buonsenso, perché dall'espulsione loro si è passata dall'espulsione nostra. Non fischi il fallo, non ammonisci, e vedi che la partita finisce 11 contro 11, magari loro sono più forti di noi e la vengono lo stesso, perché la prima in classica non pensa che ha bisogno di queste cose. E ora, per onor di cronaca, raccogliamo anche una rimostranza del presidente del Taverna, Parrottino, e noi diamo il microfono per dire cosa non è andato nell'arbitraggio di oggi il signor Orilia. Buonasera a tutti innanzitutto, sono il presidente, non è che cosa non è andato oggi, è da quattro settimane che gli albitri di Paola ci perseguitano. Abbiamo fatto richiesta al presidente Mirarchi di evitare puntualmente, si è andata a controllare, noi le ultime quattro partite abbiamo trovato albitri di Paola. Io credo che sia a buon senso che siano solo degli incapaci, dei ragazzini incapaci di arbitrare. Penso che non c'è la malignità del Tonino Fiore, perché noi abbiamo perso tre anni fa una finale play-off con Tonino Fiore e tutti l'hanno vista, tutti lo sanno, però è rimasta là. Adesso basta, faccio peggio delle altre squadre, eventualmente, albitri di Paola, io metto la squadra a sedere a centro campo e rifiuto di giocare la partita. Oggi è inaccettabile, dopo tanta acqua, dopo due squadre, complimenti al Montepaone che ha fatto una gran bella partita e ha meritato il risultato in campo. Attenzione, il Montepaone ha meritato, però non posso vedere un ragazzino del genere. Non ha il coraggio farlo da ultimo uomo ad espellere prima sull'1-0-1 di loro. Non ha il coraggio il 9, aspetta prima che gli fa la doppia sostituzione e dopo lo espelle dal campo. Ma sentite, ai 53 anni non posso prendere tutta st'acqua e può essere preso in giro da sti ragazzini. Presidente, noi siamo quasi coetanei e quindi dobbiamo avere anche tanta pazienza perché la posizione vostra è chiara. Noi come televisione aiutiamo gli arbitri e quindi diciamo che continueremo ad aiutarli, sia noi che Taverna che poi è una piazza sportivamente di alto livello. Scusami, forse proprio per questo, una piazza di alto livello no, non può essere trattata così. Un micchimece dal genere, Montepaone-Taverna, non si può mandare un ragazzino dal genere, credetemi, ne vale tutta l'amicizia che c'è col mister, con l'ambiente del Montepaone, con tutti. perché avete visto bastava poco se non era per i dirigenti per degenerare, per andare a bloccare i miei ragazzi nelle proteste se ne vada pure lei.